Grazie a tutti Grazie a tutti Destra 2, in sinistra vai Sinistra in destra 10, 50 Destra 2, in sinistra vai Centro in versione sinistra Peppone e doppio in grecia sinistra subito 2 più Peppone e doppio in grecia sinistra subito 2 più Centro in versione sinistra e in versione destra molto stretta Per destra in sinistra vai, 50 Destra molto stretta Per destra in sinistra vai, 50 Sinistra in destra per in versione destra scivola in ingresso In inversione sinistra erbe in uscita Per destra in versione sinistra Per destra in versione sinistra Per destra in versione sinistra Per in versione sinistra in ingresso in parte centrale Stai vicino alle gomme 50 In versione sinistra, doppio in ritardo Per in versione sinistra Per destra in singolo in ingresso a sinistra Per destra in versione sinistra Per destra in versione sinistra Per destra in versione sinistra Centro in versione sinistra In versione sinistra in versione sinistra Per destra 2, chiudo 50 Per destra 2 in sinistra vai sinistra in posto 20 di 50 in posto 100 in versione sinistra perfetto ne ho detto al prossimo sinistra subito 2-2 100 in versione sinistra in versione destra molto stretta per destra in sinistra la 50 molto stretta per destra in sinistra la 50 sinistra in destra per inversione l'erbetta pepino singolo in ingresso a sinistra singolo in ingresso a parte centrale sta vicino alle gomme 50 sinistra doppia ritardo per inversione destra sinistra e dolce ritardo per inversione destra e inversione sinistra basta, basta micchia